Ah, Dolcetto è il migliore, insieme a Zefris Entrambi riscomano con i killboard Oddio L'onixia si perde, penso Cioè, si mangia sicuro il verro Non so se vogliamo prendere la nonnina Per prendere meno danni, o l'1-2 Considerate che probabilmente faremo 3-3 Quindi questo qua non è male Secondo me ci può stare questo qua No, spiegami come hai fatto a prendere 2k Da usare sul solare, sono curioso Sono curioso, mi voglio chiedere 2k Da usare sul solare, come hai fatto? In ogni caso Le carte giuste da prendere Che diciamo Tendono a mantenere il loro valore Ma allo stesso tempo Tu riesci a vendere Dovresti prenderti delle carte Di giocatori forti Rare Rare Prendi delle carte di giocatori forti rare E dovrebbero mantenere il valore Più di quanto lo fanno le altre Cerca di non pagarle troppo Prendili all'asta E basta Guarda che ci siano delle vendite recenti Sul solare data Se inviti un amico oggi Prendi 50 euro Quindi tu hai invitato Cioè, scusa Tu hai detto che hai 2k Da oggi Cioè, quanti amici hai invitato In un giorno solo? Come hai fatto? La perdevamo anche con la nonna Qua va bene Hai invitato 40 persone Allora Vabbè, possiamo Discover al 3 È più forte il bandito Con sta mano Del giassista Secondo me Cioè, giassista E qua 2,9 Ma questo continua a scalare Questo è gigante Ma cos'è? Un gruppo telegram? Dove li trovate 40 persone? Se sei un creator Tanto qualcosa farà Di questo tipo Vecchio Frost Psycho Non so cosa sia Ho fatto meno ore di pre-live Loris Perché ho iniziato un po' tardi Ciao Luca Buonasera Allora Doppio drago Ci sta Oppure il Murlock 3-3 Lui sale Allora, il doppio drago Fa parte di una comp Però potrei fare anche Il Murlock 3-3 Baffare più 5-5 Questo Oppure doppio drago Cioè, in teoria Posso fare questi due Mangiare il 2-3 E quindi Non lo so Non mi fa impazzire Andare col Murlock però In idea Questi qua Lui praticamente diventa Un 3-5 Più 2-2 È estremamente tempo Secondo me È giusto prendere questi Non lo so Fare il Murlock Non mi fa impazzire Continuo a fare questo Cioè Scombare col Murlock Ti parlo dei tempi Del Patron E Ramp Druid Allora Io non ho fatto nessuna accademia Invece vi torni I tempi Però comunque In senso Se vuoi un consiglio Su quale carta comprare Compratene qualcuna rara Guarda le ultime vendite Consiglio di prendere quelle Potresti prenderti anche Delle Limited Per diversificare Un pochettino Maggiormente Anche Non è sbagliato Ragazzi Se qui qua livellassi Piccolo stop Solo per ricordarvi Che se il video vi sta piacendo Potete iscrivervi al canale Cliccando Iscriviti qua sotto E se volete ricevere Le notifiche Per i prossimi video Potete abilitarle Cliccando sulla campanellina Follia Sarebbe da rivelare Turno dopo In realtà Potrei fare 6-4 Si rollerei La lei è grossa Wow Wow Fa draghi Quindi Broken All'asta Generalmente Le paghi di meno Si Se riesce a starci dietro Si Però guarda i prezzi Su solare data Ripeto Lì devi guardargli Come se fossero degli asset Ciao Ciao Mumak Buonasera Hai preso bene il BG Hai iniziato a giocare Hai iniziato a giocare No Missator Che miseria Patta Un draghetto da mangiare Nessun drago da mangiare Ma questo ci sta Chimera Si Oddio Si La prendo Però prendo 2-3 Poi Io posso dare anche Windfury a Chimera Non so quanto sia forte Oddio Lei baffa Più 3-3 pezzi Di In realtà Si sta a baffare Chimera O sbaglio Eh good Non so se rimarrà per sempre Però è buono Per baffa un botto Sto qua Quindi in realtà Dagli Furia del vento Più vita Ha senso E poi Scudo di vino Di Spero che vada a sotare Però anche se qua va bene Ogni giorno che passa Sto gioco è sempre bello Sono d'accordo E' una figata ragazzi Di Battlegrounds Ma sto gioco Se avesse Aveva scritto gioco Se sto gioco Avesse un pochettino Più di marketing dietro Avrebbe il triplo dell'utenza Perché BG Si è totalmente Adagiato Sulla community Che Ayrton aveva prima Ma se pushassero un po' Sul marketing di BG Questo gioco esploderebbe Bello che ha preso tale Cioè Mirkanza Non mi ha Non mi ha risposto La ragazza turca Per comprare l'endol Non mi ha Non ha ancora visto Il mio messaggio Lei mi ha aggiunto Io Le ho scritto E con la mia offerta E non mi ha Ancora riposto Ma non ha neanche visto Il messaggio Comunque perdo A Vasker Ti hanno dato 65 Più uno Ah perdi Perché invece a lui Cioè A Gram Gli ha fatto A Sistabelli Fa 66 Cerchiamo i draghi Ragazzi qua Ok Un drago è uscito Secondo Secondo drago Inutile ma ci sta a provare Devo giocare a questi due qua Tra l'altro posso mettere anche lui Così male non è Meglio assoldare una recluta Finché puoi farlo Quasi mi mangio Mi mangio il mio Non lo so È un drago Ha senso più fare un roll Però Era meglio Mangiarmelo Sì Allora Quindi vi ho detto Lui va qua Sto va dietro Mi avrebbe da dire così Potrei mettere anche lui qui Eh Però preferisco baffare questo Non dirlo agli altri Ma faccio il tifo per te Ah dimmi il Kansas Se vuoi scrivergli tu Digli che è 50 dollari Fammi Fai te Fai tutto te Dio sono fortissimi Bella Perosis Grazie del nono mese Seconda Tareggosa La vogliamo? Bella questa è gigante La prendiamo Dove prendere più due più uno a tutti Non era male Roll E niente Questo è meglio Se piglio scudo Metterlo lì vicino Ragazzi Senza mettere la seconda Tarek A posto del 12-12 In realtà salire Oddio Solo per goldare Quando magari faccio il discover Quindi salta questo Cioè alla fine qua Al 5 c'è solo il drago Che gold Che è buono eh Per carità Questo qua si prende P3-P3 Grosso Tareggosa Si becca P3-P3 Potrò prendere anche scudo Ma scudo Io starei fermo così Per ora Vediamo E grazie mille anche a Sebastian 6 Del Prime Aspetta ma mi si sono svappati O che sono un pollo Io sono in ordine Non li avevo messi così Ecco Cioè il discorso è Al 5 c'è il drago Che golda tutto Se prendessi quello Potrei goldare i pezzi Qua ora mi serve Il 7-1 Non è morto Altro di questi Altro di questi Non so quando ci stia a salire Onestamente Io farei semplicemente HP ragazzi Niente La merda Cioè in realtà Questo è grosso Si potrebbe anche prendere Ok Questo ci ha senso P3-Pla Allora Magari trovo il drago Qua Sposto le gemme sue Via Non ho battlecry Mi strega Assolda pure Una di queste reclute Meglio assoldare una recluta Finché puoi farlo Posso fare questa Entrei questo Turno 9 Sì Potrei anche Potevo tirare le gemmine Anche su poeta In realtà Sì Quanto è core Il drago taverna 5 Magari si stava Salire Ma ha dato scudo Una volta lo stesso Ah no Non l'ha dato Lui stesso Ok 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 Grazie mille Macca Un anno di sub Grazie mille Un anno Abbiamo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Nice Un altro poet Non è male Non è male in realtà Forse più di quanto sia forte Qua Sì È giusto Vendere Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo Non mi capisce Hai buone possibilità Di vincere Che c'è Che c'è una cattare cosa Sbattere il plata Sì Gigante Ma guarda Sono forti questi draghi Belli grossi Roll 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 Non escono però Non sono neanche riuscito Ah ok Eccolo Adesso si Che palle Niente Lui era buono ragazzi Però Sa che è un po' tardi Per questo Cioè lui passa 6 d'attacco In realtà è buono eh Per carità È buono quel pezzo Devo quasi frizzare Assicurerò che questi Rimangano qui Per la prossima volta Non lo so Sì A turno 6 Cioè a turno 12 Mi sembra un po' tardi Per lui Cioè io qua Puntavo a triplare Tarek A triplare Poet E chiudere con un po' di scam Tanto Cioè se 3 Secondo me ormai A turno 12 Non va preso Quello lì È buono Se hai preso prima Sare stato un gran pezzo Da avere Ma così non ci sta Vabbè stiamo Non lo so Ragazzi Cioè Allora Triplare Tarek O triplare Poet E poi mettere strega Più o meno questo è il plan Se riesco a battere bestie Poi abbiamo Draghi Che potrebbe perdere anche lui No lui è su becca al morto In realtà Quindi in realtà questo rimane Però noi l'abbiamo battuto prima E lui non è un problema Questo qua Non morti Contro non morti Il 6-3 da attacco Che non serve E contro vero spino L'unico spot Dove potrebbe servire Il 6 attacco Ma il 6 È mai tardi Per prendere lui È buono Ma è tardi Per prendere quello Ragazzi Guardate cosa ho Come per stasera Per merenda Una cosa incredibile Non ho lo yogurt stasera È un po' È un po' molliccio Cioè potrebbe Ah che miseria Potrebbe rompersi Guarda che bello Ho fatto mia sorella ieri Mi è rimasto Mi è rimasto uno Tortino Crema pasticcera E frutti di bosco Delirio Sì E mi sa Che questo signore È morto Bella Quello del certo squisito Di sta costando le triple È davvero Non sto trovando niente Lui è buono Ma anche lui Mi sa che Cioè Lui Se lo metto Mi tripla Adunatore Che non è male Non è male Però ragazzi Stiamo comunque parlando Del turno 12 Dove mancano Tre Cioè due avversari Di cui uno Era quello con Non morti Se non sbaglio E l'altro Ah l'ha preso lui Il morto Ok E l'altro A Barry Quindi anche goldare questo Per turno 12 Non so quanto sposti Io cercherai di triplare E poi di mettere scam Non l'ha preso di triplare Non l'ha preso di triplare E facciamo cambio HP Io lo dico sempre Fai le cose in grande O non farle affatto Questo non è male Solo che ogni tipo Ha un tuo servitore Sì boh Cioè in realtà Ho solo due tipi Quindi prenderebbe Lui più 4 Più 4 E uno di questi Più 3 Più 3 O uno di questi Più 4 Più 4 Quindi un Più 8 Più 8 Che in realtà È comunque meglio Che dare due attacco A tutti Ciao Susan Buonasera Bello Hai paura che ti faccio Perdere la partita È a voi Che ho paura che mi fai Perdere la partita Già lo ti conosco Sei scarso E porti Scalogna 19 danni Dagli Secondo posto Abbiamo preso Adesso Mi sa che Il giorno Può fare troppi danni Questa mi sa Che si perde A prescindere Ma basta Sta tripla Cioè non me ne faccio Nulla Roll Lui Lui è una buona tripla Ma ormai non si fa più Mi serve L'Iroi Altra strega L'Iroi Per lo più Oh Tare che bella Tare che bella Salta un poeta Breeze Salta il più tre Più tre a tutti Tripla di Tare Che gioco questo Eeeh In direi Salta un poeta Quella che da qua Dove quando attaccano Neanche io farei saltare Il poeta Qua Però Sì Insomma il poeta Sì Non ci sta Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il distrutto Non so se ci sia Zappo Potrebbe anche essere Totalmente inutile Infatti è inutile Wow Che termine ha fatto Vabbè raga Lui è il verro Il verro lo sapete Il verro Il verro vince Il verro vince Dai Buonasera Buonasera Ciao Buonasera Buonasera Come mi senti Non siamo ancora morti Incredibile Posso concedere Forse questo qua Come si sente Come ti si sente Sì Male Lo deduco Ma Più o meno come sempre Ti direi Niente di Né troppo bene Né troppo male Forse ti si sente Troppo Quello è il problema Non fai ridere Vediamo questo Senti ma Dobbiamo fare Sto bg2 Io non ho fatto Ancora mezza partita Allora Forse è meglio di no Vuoi farne una Vuoi fare un bg2 Stai scalando Su quella Quella classifica Anche perché Comunque scalando È un parolone Per te Però Sto scalando Guarda Sono quasi 10k Buono Sì Il problema è che ci rimani Fino al prossimo reset Quindi Adesso vediamo Stiamo a vedere Sai così come dici Dicono di abbassare il volume Che è che scudo qua Teoricamente questo Va scudato Perché lui si schianta Con l'83 57 Che però potrebbe aver venduto Ma quello lo vende sicuro Bisogna mettere Il più insignificante Che è questo Ma non capisco Era una partita Già persa Questo perché Non hai concesso Perché magari C'è una percentuale Vediamo 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 Dicevano di abbassare Il volume Bello il 2 di capo 1-2 con dad Ciao cron Stai a guardare Chi è che eri Ho fatto una partita Su Edison Prima Ho rifilato Ho vinto 2-1 con Rana 600% ross Dove? Su Dwelling Nexus Dwelling Book Sì Hai detto due nomi Se hai detto sbagliare Su due nomi Come? Non era Dwelling Nexus Era diventato Poi l'hanno ricambiato Si chiamato L'hanno ricambiato 30 volte Sì Prima era Dwelling Network Il primo Poi è diventato Dwelling Book Quello che usavo Quello Nexus Non c'è mai stato L'hanno ricambiato